Questa collaborazione è nata grazie a una conoscenza comune e alla voglia comune di intraprendere un percorso che ci possa portare comunque a raggiungere i traguardi comuni. Siamo comunque un'azienda di Latina, ci teniamo fortemente a questa unione, siamo presenti su tutto il territorio nazionale e magari ci auguriamo poi di essere presenti sul territorio nazionale a 360 gradi o a tutto tondo come hai detto te anche con la squadra della Latina Calcio a 5. Abbiamo stretto diciamo tra virgolette un matrimonio importante con un'azienda di Latina che è la cosa che veramente di più ci inorgoglisce perché credo che oggi il my sponsor nuovo della Latina Calcio a 5 non è soltanto un gruppo imprenditoriale importante, è un gruppo imprenditoriale che ha le proprie radici in questa città. Quindi per noi era importante cercare qualcuno che credesse di poter coniugare il proprio marchio, la propria attività attraverso una disciplina sportiva della sua città e questo credo che ha fatto sì che si potesse concretizzare questo matrimonio. Credo che con il roster che siamo riusciti ad allestire noi, credo che questa squadra sia veramente in grado di fare un ottimo campionato. Ci sono nomi che diciamo papabili per quel che riguarda la vostra società, per quel che riguarda gli acquisti da qui in avanti? Ma guarda per noi è stato già importante partire dalle conferme, le conferme di Luca Smaina e di Lucio Avellino, di Andrea Terenzi, dei ragazzi italiani sono sicuramente il primo viatico per poter avere comunque una base importante. A questo abbiamo aggiunto per il momento un giocatore che, a detta di tutti, è un giocatore che comunque ha calcato campi di A1 e nel giro della Nazionale Argentina che dovrà far fare a questa squadra un salto di qualità importante che è Mattias Lara. Adesso stiamo perfezionando un'altra operazione con un giocatore che lo stesso è nel roster della Nazionale Argentina, quindi stiamo parlando della forza nazionale più importante a livello di futsal nel mondo insieme al Brasile. Credo che questi due innesti, uniti alle conferme e al gruppo che poi ha sempre fatto la differenza in questa squadra, potrà veramente far sì che questo gruppo possa disputare un campionato all'altezza. Gli obiettivi sono quelli di fare il meglio possibile. Come ho detto tante volte, non è un tanto uno scappare alla domanda, però veramente il campionato del prossimo anno ancora un po' è molto un ternalotto per quanto riguarda le rose e la composizione proprio dei gironi, quindi diciamo che è stato un anno particolare per il calcio a 5. Noi fortunatamente siamo riusciti a, secondo il mio punto di vista, anche quello della società, allestire una società che poteva contemplare, diciamo, bene una squadra assortita con una serie di giocatori esperti di qualità, con una serie di giocatori giovani di Latina da valorizzare, quindi speriamo di fare ecco una buonissima stagione a partire da quest'anno, ma anche di poter costruire qualcosa per il futuro.